C'è sicuramente una differenza tra l'idea del barbaro medieval e l'idea del barbaro antica, in particolar modo anche tra l'antica Grecia e l'antica Roma. Perché questo? Perché in realtà cambia probabilmente la struttura di stampo religioso, infatti un primo punto da notare è in fin dei conti questo, cioè la struttura appunto del senso anche della politica muta tantissimo, in particolar modo nella differenza in fin dei conti tra appunto antichità e poi naturalmente anche medioevo, soprattutto da un punto di vista per esempio religioso. Ovvero se la religione impatta da un punto di vista politico, nel senso che per esempio gli antichi erano politeisti, questo è un primo punto da fare, quindi in realtà gli antichi ragionavano specificatamente da un punto di vista in realtà politico, ovvero se ragionavano gli antichi greci per quanto riguarda l'assetto delle polis, ovvero se delle città-stato, mentre per quanto riguarda Roma ragioneranno da un lato prima all'interno dell'urbe romana e poi sempre più all'interno di una struttura che vedrà un impero sempre più importante che naturalmente poi si stenderà da un lato in Europa, poi in Asia, poi anche nel Nordafrica. E quindi questo senso vedrà un certo tipo anche di collegamento con culture molto diverse dalla stessa Roma. Però da questo punto di vista ci sarà anche un certo tipo di differenza con la stessa Grecia. Perché questo? Perché in verità è vero che le due culture rimasero politeiste, però è anche vero che in certo qual modo le due culture furono distinte dal presupposto che invece, a differenza appunto dei greci, i romani furono molto più inclusivi. Questo è un altro punto importante perché poi la struttura della cittadinanza mutò in relazione anche al senso dell'inclusività, ovvero sia i greci da questo punto di vista furono molto meno inclusivi in relazione proprio alla loro dottrina politica propria della polis, ovvero sia dell'autonomia locale. Questo è un primo punto importante che tra l'altro lo si vede anche nella schiavitù, ovvero sia se prendiamo per esempio la schiavitù greca, specificatamente per esempio la schiavitù atenese e la confrontiamo con la schiavitù di Roma, ci accorgiamo che in fin dei conti nella schiavitù atenese nessuno, non ci poteva essere il liberto, cioè non ci poteva essere quello schiavo che poi veniva affrancato, che poi poteva divinire cittadino atenese. Non esisteva questa cosa nell'antica Grecia e questo è proprio anche l'esempio della realtà atenese, però in linea di massima non c'era questa cosa nell'antica Grecia. Per quanto riguarda invece Roma, ciò è già diverso perché in realtà Roma aveva poi sviluppato, e si era accorta di questo, un sistema di affrancamento in relazione anche al senso della schiavitù. Ovvero sia Roma aveva capito che per cercare di diventare una città importante, che non solo avesse un certo tipo di struttura interna, ma avesse un certo tipo anche di inclusione esterna, tale per cui poi potesse a un certo punto riuscire a mantenere un impero, ovvero sia una struttura politica atta naturalmente al dominio, ma a quel dominio sociale, tale per cui poi le popolazioni al suo interno non si sentissero poi così tanto sotto imposizione, aveva bisogno di un certo tipo di inclusione. Infatti ci sono anche diversi studi che cercano di considerare il perché Atene, per quanto tentò di divenire un impero, in certo qual modo lo divenì, lo sappiamo perfettamente, cioè aveva costituita per esempio la Lega degli Oattica, non riuscì mai a mantenere questo impero nel giro di tanto tempo, nel corso del tempo. In particolar modo, infatti, sappiamo perfettamente come la Lega degli Oattica poi terminò praticamente con la fine della guerra del Peloponneso. Ci furono altre leghe che Atene cercò di costituire, però mai come riuscì a fare Roma, perché Roma da questo punto di vista riuscì piano piano sempre di più a costituire un impero. Prima riuscendo prima di tutto a conquistare i territori della penisola italiana, poi riuscendo anche a conquistare, ovviamente, sottomettendo Cartagine, piano piano anche poi il Nord Africa, successivamente alle guerre puniche. E poi da questo punto di vista sappiamo anche come a poco a poco Roma riuscì ad assimilare, a sottomettere i regni macedoni, quelli che aveva costituito Alessandro Magno nel suo impero. Naturalmente, ora Alessandro Magno sappiamo che morì nel 323 a.C. e Roma, da questo punto di vista, poi piano piano assimilò tutti questi regni, che erano naturalmente, per esempio, il regno di Macedonia, e assimilò poi la Grecia, assimilò infine anche, oltre al regno di Siria, anche la realtà egiziana nel 31 a.C. con la battaglia di Azio. Il presupposto importante è probabilmente questo, se poi noi andiamo a verificare la differenza tra greci e romani. E' un altro punto importante, quello che vediamo, per cui i greci avevano difficoltà anche nel corrispondere a un certo tipo di lingua, ovvero se non volevano imparare il latino, perché loro erano molto autonomi e indipendenti. In realtà i greci mantenero la lingua greca. I greci stessi pensavano in certo qual modo che le altre culture fossero comunque sia di base inferiore alla loro, e non avevano intenzione, d'altro canto, di misurare la cittadinanza delle altre culture con la loro. In realtà la loro cittadinanza, per i greci, era la migliore tra tutte. Da questo punto di vista invece i romani fecero un passo in più, ovvero se a un certo punto si accorsero che l'idea di cittadinanza doveva essere un certo tipo di cittadinanza che dovesse considerare un certo tipo di relazione con anche quello straniero che poi potesse a un certo punto, se diveniva e assimilava i costumi romani, divenire romano. Infatti si parla di romanizzazione. Il presupposto dell'ellenizzazione non è propriamente greco, se ci pensiamo. In realtà fu attuato da un non greco che partì con Alessandro Magno e partì poi dai suoi diadocchi di stampo macedone. Puramente l'ellenizzazione non è di stampo autenticamente greco, perché i greci non hanno mai avuto intenzione né di ellenizzare qualcuno, né in realtà di imparare la sua lingua, né d'altro canto di cercare di coniugare le conoscenze del prossimo con le proprie conoscenze a parte delle eccezioni, come possono essere state Erodot da un lato e per esempio anche Senofonte dall'altro. Senofonte che da questo punto di vista viaggiò per esempio in Persia, scrisse Ranabasi. Queste eccezioni sono però eccezioni, cioè, e sono eccezioni anche gli schiavi greci che furono presi dai romani. Furono eccezioni quegli schiavi greci che furono nella realtà stessa romana, come Livio Andronico. perché questi schiavi erano naturalmente inseriti nel mondo greco, ma tutti quei greci che erano inseriti perché erano inseriti nel mondo romano, questi schiavi greci, ma tutti quei greci che erano inseriti nella loro realtà pratica politica e che erano all'interno della loro indipendenza. Chiaramente pensavano che tutti i loro compatrioti che avessero tentato di collaborare o di considerare l'opportunità di entrare in relazione culturale con un romano erano comunque greci che stavano in certo qual modo abbandonando e in certo qual modo violando la cultura greca stessa. In realtà erano come quasi traditori. Questo è un altro punto importante che comunque esemplifica un certo tipo anche di attività culturale romana. Primo presupposto, l'idea di cittadinanza che muta nel tempo e a un certo punto ingloba altre culture. E' nella misura in cui anche a un certo punto gli imperatori stessi con la nascita dell'impero non sono più fondamentalmente latini, nel senso sono relegati al senso romano ma non sono probabilmente romani, non provengono da Roma. Questo è un primo punto. Sono stranieri e d'altro canto questo senso dell'essere stranieri era in relazione con la romanizzazione. Provengono anche proprio da altre realtà culturali che non sono propriamente italiane eppure in realtà ormai esiste questa romanizzazione tale per cui ormai appunto si pensa che questi stranieri sono appositamente relegati, considerati cittadini perché fondamentalmente pronti per essere romani. Ci sono stessi intellettuali che non sono specificatamente italiani e romani come per esempio Seneca. Seneca per esempio appunto veniva dalla Spagna, dalla realtà spagnola eppure egli fu considerato come potenziale percettore e in fin dei conti percettore dell'imperatore Nerone. Ci sono proprio un certo tipo di riflessioni che vengono attuate dai romani che in fin dei conti collegano anche il punto di vista intellettuale che non deve essere necessariamente relegato a un senso proprio di etnia specifica proprio della realtà specifica da cui si proviene. Il senso della tribù da parte dei romani viene incluso. I romani sono inclusivi, prendono le diverse tribù, le romanizzano e le considerano i si stessi poi romani. Questo è un altro punto importante da considerare. È ovvio che invece la cultura greca fu esportata attraverso l'idea dell'Alessandro Magno di in certo qual modo poi ellenizzare altre culture attraverso la conquista, però fu poi mediata soltanto attraverso la stessa cultura che poi è la cultura romana. Infatti i greci vennero ripresi specificatamente poi soprattutto anche dai romani. Probabilmente perché in tal senso era importante per i romani cercare un certo tipo di recupero che essi videro nella cultura greca come modalità filosofica di riflessione. Quindi a Roma serviva in un certo modo il diritto per mantenersi all'interno di un certo tipo di regola che Roma stava strutturando a partire ovviamente poi dal senso repubblicano fino poi al senso imperiale. E poi in tal senso serviva un certo tipo di cultura filosofica che Roma vide in Grecia. Però non furono i greci intenzionati a trasmettere la loro cultura ai romani. Fu in realtà l'intervento di un non greco, Alessandro Magno, che poi trasferì in modo diretto o indiretto la cultura greca all'esterno e in certo qual modo i greci in realtà furono sempre chiusi all'interno della loro realtà cercando anche di dibattere se Alessandro fosse un certo tipo di salvatore oppure un certo tipo di nemico. Bensì poi a un certo punto arrivando alla cultura romana prese quel pensiero che fu platonico-oristotelico ma anche in tal senso delle filosofie successive a Platone-Aristotele come le filosofie elenistiche, come la filosofia epicurea in relazione poi pensiamo a Lucrezio che riprese la filosofia epicurea Lucrezio che naturalmente era romano e d'altro canto anche Seneca che riprese la filosofia stoica o anche Marco Aurelio, uno stesso imperatore. Ci sono diversi tipi di discorsi quindi da rilevare ovvero sia da un lato il senso degli schiavi liberti a Roma che non esistevano ad Atene per esempio in Grecia in linea di Massima quegli schiavi liberti che poi potevano appartenere al senso della cittadinanza proporre essere cittadini, avanzare appunto pretese rispetto alla cittadinanza ed essere intesi proprio come umani in relazione al fatto che avevano compreso l'idea della cittadinanza cose che in Grecia non esisteva, realtà chiusa alla Grecia differentemente da Roma. In più c'era il senso culturale, i greci non impararono una lingua non impararono comunque la lingua latina che invece i romani impararono cioè i romani impararono la loro lingua ma impararono anche la lingua greca perché avevano bisogno comunque di fare mediazione culturale in relazione alla cultura che volevano imparare quella dei greci questo è un altro punto. E poi naturalmente i romani che avevano costituito un vasto impero attuarono quella che si chiama romanizzazione per inserire anche altre culture in modo inclusivo all'interno della loro in certo qual modo per dire alle altre culture che per quanto esiste essere schiavitù, per quanto fosse un mondo molto più difficile di oggi i romani non avevano pregiudizi di stampo etnico comunque sia anche perché esisteva un politeismo quindi di fatto gli antichi non fecevano mai guerre di religione non esportavano attraverso mano militare un certo tipo di imposizione per questioni di stampo religioso e per di più in tal senso i romani è vero che avevano gli schiavi perché esisteva quel diritto tale per cui in realtà non esisteva la guerra giusta in seno a un'oggettività morale quindi lo schiavo era chi era vinto però è anche vero che già che non esisteva una differenziazione di stampo etnico ben definito in realtà il cittadino era colui che stava all'interno del costume romano quindi alla fine chi era accolto nel costume romano in quanto era libero o in quanto era stato liberato poi poteva da un lato essere compreso come cittadino al di là della sua etnia al di là in certo qual modo del suo colore della pelle al di là della sua tribù specifica perché la tribù poteva poi benissimo essere Roma questa fu poi una grande differenza per esempio rispetto alla Grecia stessa perché invece la tribù si definì sempre nella relazione con la polis un greco non poteva appartenere un greco per esempio di Argo non poteva appartenere alla tribù etnese mai e poi mai al di là del fatto che poteva appartenere in certo qual modo alla considerazione greca in quanto greco come l'altro greco però in realtà la tribù tra i greci era sempre limitata alla partecipazione politica specifica tra la stessa realtà politica della polis se vogliamo dirla in certo qual modo è questo che limitò molto probabilmente la realtà etnese rispetto anche al senso del suo impero inteso come mantenimento dell'impero perché Roma ebbe l'intelligenza a differenza della realtà etnese di essere proprio più inclusiva in questi tre rami modalità culturale romanizzazione e senso dell'imparare altre lingue in relazione anche però dell'imparare altre culture sia per esigenze sia per preferenze per particolari questo è un altro punto interessante che poi specifica come d'altro canto Roma mantiene il suo impero strutturalmente già prima anche di avere un impero partendo dalla realtà stessa repubblicana per tantissimi secoli questo è un altro punto certo con anche i suoi alti e bassi ma questo è un punto rilevante che comunque ci fa capire come la stessa struttura romana era relegata anche a un senso di mantenimento più consolidato perché accettava comunque altre culture in relazione anche a un certo tipo di autonomia ma in relazione anche a un certo tipo di inserimento perché poi il mondo era Roma e se tu non entravi in contatto con il senso romano di cittadinanza tu non eri puramente romano a un certo punto questo serviva da essere espanso e quindi in tal senso non serviva più essere romani soltanto se nati a Roma o soltanto se appartenenti alla cultura specificatamente italiana intesa come penisola italiana perché l'Italia ovviamente non esisteva ma serviva anche essere appartenenti quindi poteva essere utile essere appartenenti anche ad altre tribù e quindi furono inserite anche altre tribù potenzialmente all'interno di Roma e quindi se tu appartenevi ad altre tribù potevi poi perfettamente essere un romano questo tipo di struttura è molto interessante perché si diversificherà molto dalla struttura imperiale successiva anche proprio in relazione al diritto successivo ovvero sia diritto dei popoli che si strutturerà a partire dal Medioevo in particolar modo secondo la mia parere il Medioevo si può intravedere con l'inizio proprio dell'avvento del cristianesimo in realtà proprio con l'impero romano da Costantino in poi perché con Costantino il cristianesimo divenne la religione ufficiale dell'impero romano questo è un altro punto importante perché attenzione con la modalità costantiniera d'atteggiamento cambia la modalità giuridica di intenzione politica ovvero sia prima il cittadino era chi era accettato in Grecia nella polis a Roma nell'urbe e poi all'interno dell'impero romanizzato quindi attraverso poi un certo tipo di sviluppo al di là dell'etnia al di là della cultura all'interno del senso romano della cosa per quanto invece riguarda l'avvento del cristianesimo abbiamo un altro tipo di argomento perché con l'avvento del cristianesimo il barbaro non è più attenzione chi non si inserisce nella cittadinanza greca o romana antica specifica in relazione poi al senso che lì esiste un politeismo e quindi è più preponderante l'ambito politico ormai con l'avvento del cristianesimo il barbaro è chi non diventa cristiano è chi non è cattolico in fin dei conti quindi con l'avvento del cristianesimo da Costantino in poi con praticamente siamo ormai verso la fine dell'impero romano siamo ormai verso la fine della storia di Roma ma comunque dal medioevo che inizia si può anche intravedere secondo questa periodizzazione da Costantino in poi e poi successivamente sapremo cosa si strutturerà con la fine dell'impero romano d'Occidente nel 466 d.C con la deposizione di Romulo Augusto e con l'avvento poi ormai stavano già strutturando questi regni romano barbarici sappiamo perfettamente la struttura che si consolidò però il presupposto è che con l'avvento del cattolicesimo cambiò anche l'assetto di stampo mentale e religioso anche perché poi in tal senso sappiamo perfettamente come la struttura divenne e passò da un senso politeista a un senso monoteista anche poi con appunto l'avvento di Carlo Magno con l'accoglimento del senso cattolico in relazione al senso del Papa e con da un lato la questione del potere da un lato anche la questione di stampo religioso in relazione quindi a un successore di Pietro nel meandro nell'ambito nella realtà del Vaticano quindi dello stato pontificio con potere temporale e potere spirituale potere di dominio ma anche potere in relazione a quindi a un capo della Chiesa che è anche capo in certo qual modo della cristianità da un punto di vista spirituale se Dio è unico e non è tanti allora il barbaro non può che essere colui che non apprezza e non pensa che Dio esista quel Dio specifico non tanti dei e infatti da un punto di vista specifico appunto quel barbaro è comunque se non crede nel Dio cattolico lontano dal senso cristiano quindi non può stare nel senso cristiano nella misura in cui non crede ecco quindi che appena crede lui può stare nel senso cristiano e se crede allora è nel meandro cristiano e se è nel meandro cristiano può avere diritto il presupposto quindi chiaramente definire questo chiaramente non è che chi non fosse cristiano cattolico nel Medioevo non avesse umanità o meglio non fosse considerato colui che non avesse umanità ma sicuramente era considerato comunque al limite dell'umanità quasi fuori da questo campo nella misura in cui non era cattolico non era cristiano ecco quindi che attenzione essere in certo qual modo considerati un po' più umani degli altri era comunque essere considerati coloro che si abbassavano al senso cattolico è chiaro che poi il cattolicesimo da un punto di vista teorico-morale cercò di sviluppare anche il tema della giurisdizione nel senso che se Dio è l'universale e il Dio cattolico comunque tende al senso universale ed è bene chi però ha un'altra fede deve essere comunque da un punto di vista giuridico accettato perché il Dio cattolico è sommo bene quindi il sommo bene non può in certo qual modo non accettare anche il diverso infatti la giurisdizione di chi era infedele era comunque riconosciuta nel medioevo c'era naturalmente una preoccupazione di chi di perché questi infedeli fossero infedeli soprattutto anche una preoccupazione di stampo militare come gli infedeli si relazionano con noi da un punto di vista militare qui per esempio c'è tutta la questione delle crociate però d'altro canto c'è probabilmente anche un certo tipo di accettazione della giurisdizione nella misura in cui l'infedele comunque è propriamente così in quanto infedele la questione dell'eretico invece è ben diversa perché l'eretico è battezzato e poi diventa colui che in certo qual modo è come se si opponesse allo stesso dogma per cui è stato battezzato quindi è un altro discorso e forse da un certo punto di vista è anche un discorso un po' più peggiore però il presupposto è questo cioè il barbaro cambia di struttura non c'è più il barbaro che è barbaro perché in questo senso non è nell'urbe o non è nella polis e non è riconosciuto politicamente il barbaro diventa barbaro universale nella misura in cui c'è ormai il cattolicesimo c'è ormai il cristianesimo la struttura quindi cambia da un punto di vista politico a un punto di vista religioso con un certo tipo anche di teologia politica più preponderante quindi un senso di una relazione tra il cielo e la terra un senso di metafisica in relazione alla fisica e oltretutto anche un certo tipo attenzione di innovazione del diritto cioè se ci pensate gli antichi non avevano in realtà il diritto inteso come diritto probabilmente dell'ingiuria cioè io faccio ingiuria a te e quindi tu hai il diritto di farmi guerra nella misura in cui esiste un Dio onnipresente e unico gli antichi non avevano il diritto alla guerra inteso come quel diritto tale per cui esiste un diritto si potrebbe dire tra gentlemen per cui esiste un casus belli che oggettivamente noi accettiamo perché in realtà Dio produce il diritto e quindi esiste un diritto naturale universale tra i per cui anche gli infedeli sono comunque riconosciuti nel diritto e quindi in realtà siamo tutti riconosciuti e anche quindi dobbiamo misurarci su una parità di diritto che concerne anche l'infedeli al di là del fatto che è un po' al limite dell'umanità perché è vero che in fidei conti con lo sviluppo del cattolicesimo è questo che si strutturò cioè un diritto sì di stampo gerarchico tra persone che esistevano tra loro si pensa alla realtà feudale però anche un diritto naturale nel meandro cattolico che indicava come Dio comunque producesse un diritto cosiddetto giusto naturalista o naturale tale per cui anche colui che non era cattolico doveva essere riconosciuto o comunque esisteva una giuridicità del diritto relegata a un caso sbelli specifico relegato appunto a un tipo di guerra giusta per esempio un tipo di battaglia un tipo di offesa giusta in relazione a quella che viene definita offesa o ingiuria se l'ingiuria viene attuata e quindi il dibattito medievale è tutto un dibattito poi molto spesso relegato che cosa sia un'ingiuria politica perché l'ingiuria politica è probabilmente quell'ingiuria che poi si può rilacciare anche al diritto naturale che parte da Dio nell'antichità nell'antica Grecia nell'antica Roma non c'era sta roba perché in realtà non erano cattolici non esisteva il senso cattolico a meno poi fin tanto che poi naturalmente si arrivò a Costantino da Costantino in poi ma nel senso antico classico non esisteva naturalmente l'atteggiamento dell'ingiuria e quindi in realtà la schiavitù capite bene che era molto più accettata nella misura in cui da questo punto di vista non c'era il diritto naturale ecco perché la schiavitù praticamente all'interno del Medioevo cominciò a essere dibattuta in modo molto più importante e si cominciò a chiarire meglio che cosa dovesse essere una schiavitù e soprattutto si cercò appunto di sviluppare un certo tipo di critica specifica alla schiavitù probabilmente perché se il barbaro non è più barbaro inteso come quel barbaro fuori dalla polis fuori dall'urbe qui non ha apprezzamento o non coincide più con l'ambito politico della polis e il barbaro è solo chi in questo caso non crede se comincia a credere comincia allora a conciliarsi con l'ambito cattolico non è più barbaro ma da un punto di vista di teologia razionale se gli uomini sono più o meno tutti razionali al di là del fatto che hanno culture diverse possono intendere il senso cattolico quindi c'è un ambito della conversione da considerare perché secondo l'atteggiamento cattolico l'uomo è razionale nel senso che è comunque creato da Dio e quindi in realtà l'uomo può intendere Dio e infatti questo lo dice bene il santo Maso cioè l'uomo non può conoscere perfettamente Dio ma in certo modo può intenderlo nella misura in cui Dio lascia tracce si chiama teologia razionale ecco infatti che nella stessa mentalità medievale che poi sarà la stessa mentalità che riguarderà gli imperi successivi della scoperta dell'America si tenderà ad attuare il senso della conversione soprattutto questo lo vediamo nel dominio spagnolo che è un dominio di stampo cattolico in fin dei conti con un'influenza molto medievale ma con una struttura di stampo filosofico di atteggiamento medievale che in realtà si ricollega al tema degli ingiuri al tema della giustizia in relazione al monoteismo per cercare di capire dove sia la guerra giusta o la guerra ingiusta ma in relazione alla conversione se noi possiamo convertire gli indios come se noi possiamo convertire anche potenzialmente qualcuno che potrebbe anche essere musulmano magari allora noi possiamo riuscire a capire che in fin dei conti tutti possono essere convertiti anche chi non crede quindi l'idea della conversione diventa un atteggiamento universale di proposta universale di teoria politica universale dove in realtà si pensa ora a uno stato universale o a uno stato propriamente politico dove possa esistere comunque un motivo di pace in relazione al senso dell'imperativo categorico d'atteggiamento è chiaro che la teoria moderna politica non ci sarebbe senza il cattolicesimo molto probabilmente cioè l'idea anche di Kant dell'imperativo categorico della realtà politica che si struttura su un senso di reciprocità non ci sarebbe senza la modalità giudaico cristiana d'atteggiamento quindi da un lato vediamo come ovviamente ci sia una grande distinzione tra Roma e i greci nel senso antico e come vediamo come i greci avessero come i romani strutturato una loro identità in misura della cittadinanza che loro credevano ma l'idea di cittadinanza dal medioevo prende una struttura di stampo religioso politico non più soltanto politica esclusa dalla religione questo è un altro punto importante perché poi si strutturerà le riflessioni che partono poi dall'ambito politico in relazione al senso dell'impero che cos'è un impero per i romani un impero era in relazione all'urbe tale per cui esisteva la romanizzazione per per esempio un impero spagnolo del nuovo mondo nell'america del nuovo mondo un impero era strutturato in relazione al dominio del sovrano ma un certo tipo di conversione che poteva essere attuata perché esiste un approccio razionale al senso della conversione e alla salvezza divina cioè se noi proviamo a convertire quei nativi che in certo qual modo sono esseri umani quindi possono capire Dio allora essi possono anche essere salvati da Dio questo non c'era nell'antichità ovviamente c'era in certo qual modo dal medioevo in poi e poi naturalmente da qui dal medioevo in poi ci sarà anche tutto il dibattito nel cercare di capire perché uno non vuole capire Dio il Dio cattolico che cosa fare di quelli che non capiscono Dio che non vogliono capirlo di quelli che lo rigettano tutto questo è molto interessante perché c'è tutto un dibattito tra il Dio che comunque è bene ed è onnipotente e in certo qual modo il riconoscimento della giurisdizione che comunque fa riflettere in relazione in questo caso alla differenza enorme che c'era con l'atteggiamento del diverso nell'antichità inteso come quel diverso che per i romani può essere anche incluso ma esiste comunque la schiavitù esiste quella schiavitù che in Grecia non esiste tale per cui può esserci eliminata questa schiavitù se è affrancato lo schiavo e quindi può divinare cittadino romano non già per in Grecia in Grecia non poteva essere affrancato non potevi ad Atene per esempio venire affrancato e divinare cittadino atenese questo solo per Roma perché i romani capirono che era strutturalmente utile fare questo all'interno dell'impero non per esigenze religiose per esigenze politiche era più importante mettere attuare inclusione per fare in modo che ci fosse più normalizzazione dell'inclusione e quindi i popoli non si rivoltassero e infatti i romani sono durati secoli i greci intesi come realtà atenese l'impero greco rispetto all'impero romano l'impero atenese intendo dire rispetto all'impero romano è durato molto poco proprio molto poco rispetto all'impero romano i romani avevano bisogno di romanizzare e di includere per un senso proprio di supporto alla sfera politica la questione cambiò da un punto di vista religioso a partire dal medioevo dove si cominciò a pensare a una realtà politica più 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 inclusiva nell'esclusività nella misura in cui c'era una nuova religione eppure questo tipo di inclusività era sempre poi relegato anche a chi era soltanto cattolico a Roma invece questo tipo di atteggiamento in questo caso non esisteva nella misura in cui non c'era la religione ma esisteva per un supporto politico al senso imperiale che si stava strutturando a partire ormai dalla nascita della repubblica romana ciao